Do you understand what it is we do now, or did I rush you through the rules, pushing you into the play before you were prepared? I expect this will come as a welcome surprise In fondo, vabbè Ahia Mi abbassa la massima 15 della massima E 15 salute Una carta benedizione Ogni colpo subito dal giocatore Ogni colpo subito dal giocatore durante il combattimento ha una possibilità di avvenenare l'attaccante La cerimonia si conclude e buonanotte al secchio Signor Lion, giuro che se mi fai trabucchette anche stavolta Io ti picchio Aha, so cosa ti serve Oh, 4 carte oro guadagno Sono basito Poi prima che tu possa fermarlo con velocità superumana Prendi una cipolla sottaccetto dal tuo piatto e corre fuori dalla porta Come al solito Oh, se adesso non abbiamo i soldi Ora posso darti finalmente i suoi soldi Gli lanci qualche moneta e lui si dà una calmata Inizia a cantare Avevo tante giù Inizia a cantare la sua voce evoca Vivide e toccante immagine di beltà e innocenza Che invigoriscono il tuo morale E ti ispirano a compiere gesta epiche Aha Con quale frase vi lo dici Questa, giusto Il cortomante Una carta di salute massima E gettone Il token 5 Vabbè Meglio con niente, no Considerando che mi pesca una carta dolore Ogni 2x3 La canzone finisce E lui sprofonda in un sonno inquieto Riprende il cammino Blink Are we ready for going on? Ma che schifo che fai E noi però abbiamo 70 di oro Ringraziamo Lionel Come l'ingoscata La forza Fatevi sotto Su qua Su c'è Finalmente non salto all'animazione Attenzione E' la trappola delle mappe Cioè la mappa delle trappole Ma Ma Cos'è il mio arsenale? E' una sottospecie di composizione Tra elmi, scudi e armi Si lo so cos'è un arsenale E cos'è il mio arsenale Però A parte che l'arsenale non è quello Vabbè se volete morire Ditemelo e facciamo così No? Ah l'ho cacciato nelle trappole Bang! Di spalle! Mamma mia come sono cattivo Sblog E cadde a terra I am so cruel E finalmente possiamo avvicinarci a gioieiere Saggio viaggiatore Saggio Appena ucciso mille persone Saggio Ok Oh mio dio si Vediamo un po' tutto quello che ha Ogni 6 uccisioni che fai durante un combattimento Riceverai 30 di salute Questo si compra ma proprio Non ci penso neanche Allora Durante il combattimento Prima il tasto R&B Per attivare la forma di fuoco Ah penso per l'arma Dopo aver ucciso Ogni non morto 5 salute E Il giocatore riceve una dazione di cibo Ogni volta che entra in un negozio 39 Costa troppo E da 4 No Questa può esserci buona Sì 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 Io ho il mitrille Giusto Sì Quindi la mia armatura media 5 più 4 9 E Vero dell'anima E no Caspita 5 più 4 9 Riesco a prendere 2 cibi Prendiamoci 2 cibi Va bene Fatto ciò Siamo prontissimi E carichi Ah guarda che qua c'era altro cibo Vabbè 15 salute Vabbè Siamo pronti per la prossima avventura Sì ok Mi aspettavo una sua frase E invece niente Quindi dico io My powers are genuine Ok Ci vediamo in un prossimo video You are silent Sì adesso Non parlare troppo Ok Ouch Ok ci vediamo Al prossimo video Alla prossima Ciao Benvenuti Bentrovati Nel prossimo video Te lo dirò No adesso Ah giusto Quindi ciao Ciao Siamo pronti a fare I grandi Mazzi Grandi mazzi Gioco di carte Quindi Alla prossima Ciao